Musica Domenica 19 e novembre, bentrovati a questo nuovo appuntamento con TG Replay, la finestra di TV Molise che torna ad aprirsi su alcune delle notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Noi apriamo con l'economia regionale, rapporto Banca Italia e Molise, l'economia cresce spinta dal settore industriale ma meno rispetto all'anno scorso, peggiore invece la situazione reddituale delle famiglie quanto emerso dal report presentato presso la prefettura di Isernia. L'economia molisana nei primi sei mesi del 2023 continua a crescere seppur meno rispetto all'anno precedente e quanto è emerso dal report presentato questa mattina da Banca Italia presso la prefettura di Isernia. Nel primo semestre dell'anno l'aumento dell'attività economica è stato dell'1,2% in linea con l'Italia e con il mezzogiorno 12 mesi fa nello stesso periodo. La crescita era del 3,2%, un calo dovuto al rallentamento della domanda interna diretta conseguenza dell'inflazione. Il dato relativo al 2023 però ancora non tiene conto delle tensioni geopolitiche, in particolare della guerra israelo-palestinese e dell'indebolimento del quadro congiunturale nazionale, fattori questi ultimi che potrebbero avere ripercussioni anche sull'economia regionale. L'attività del settore industriale nel complesso cresciuta, sostenuta soprattutto dal comparto automobilistico con l'80% delle imprese molisane che chiuderanno il bilancio annuale in segno positivo. In calo invece il commercio, mentre subisce un lieve rallentamento, il settore delle costruzioni che ha risentito della mancata proroga del super bonus. Ci attendiamo che ci sia questo impatto derivante dal venir meno del super bonus. Sul fronte del PNRR bisognerà attendere ancora qualche mese per valutarne l'impatto. Le risorse destinate al Molise sono un miliardo e tre. In realtà sulla base delle nostre analisi le gare già bandite parlano di un importo di circa 350 milioni. Buone notizie invece per l'occupazione con un incremento attorno al 3% e una netta diminuzione degli ammortizzatori sociali. Se l'economia rallenta ma continua a crescere va meno bene invece per le famiglie molisane. La situazione reddituale di queste ultime è peggiorata rispetto a 12 mesi fa. Nel complesso però i dati di Banca Italia disegnano un quadro incoraggiante. Sembra che l'economia molisana continua a crescere ed è un dato particolarmente importante, ma soprattutto per questa provincia nella quale io credo fermamente, avendo avuto la possibilità di confrontarmi e di verificare delle belle realtà. La politica Lotito è in Molise per organizzare i congressi di Forza Italia, incontra prima i rappresentanti forzisti in Consiglio regionale e dice in realtà non me ne sono mai andato. Claudio Lotito è tornato nel Molise per preparare i congressi provinciali di Forza Italia del 26 novembre che eleggeranno i coordinatori, ma il senatore eletto nel collegio uninominale regionale e coordinatori di Forza Italia nel Molise, carica acquisita direttamente da Berlusconi, ci tiene a rimarcare il concetto che per lui il Molise è un impegno quotidiano e non di circostanza. Oltre alla presenza fisica c'è una presenza quotidiana con quelli che sono i problemi del Molise che io ho attenzione e cerco anche di risolvere quotidianamente attraverso che mi vengono sottoposti dai rappresentanti non solo delle istituzioni ma anche i singoli cittadini. Sono adesso di persona, sono venuto perché come voi ben sapete ho convocato, è stato stato, il partito a livello nazionale ha dato delle date per l'espletare, per far sì che venga espletato il congresso, 24, 25, 26, io ho scelto appunto il 26 per poter espletare i congressi provinciali che riguardano sia Campobasso che Sia Segna. L'Otito ha precedentemente incontrato i forzisti in Consiglio regionale. Ho incontrato la delegazione delle forze d'Italia, quindi ho incontrato il Presidente Roberti, il Vice Presidente Dilucente, il Consigliere Di Baggio e il Consigliere Nicola Cavalieri. Inevitabile parlare della sconfitta del centro-destra alla provincia di Campobasso, nello specifico al candidato voluto dallo stesso Lottito, ribadisce Lottito la scelta logica di Civetta ma sottolinea il concetto che si tratta comunque di un Presidente di transizione essendo uniti nel progetto di modifica della legge rettorale delle province. Il segno di continuità e anche di considerazione per l'operato della precedente gestione è stato scelto anche perché è stato scelto appunto il candidato esistente, cioè che era in essere. Ma tra altre cose aggiungo che poiché ritinere la possibilità di poter cambiare quello che sarà il sistema elettorale delle province, ma di farle chiaramente riassumere un sistema elettorale storico che era quello in elezione diretta, probabilmente rappresentava questo elemento di transizione. Quindi questo dato politico io non lo vedo come un dato, come dire, in qualche maniera eclatante dal punto di vista del scontro. All'interno di una coalizione i comportamenti devono essere leali, corretti e rispettosi di quelli che sono gli accordi. Poi ogni amministratore è libero di votare con la propria coscienza e ha fatto delle scelte diverse. Capologo di Regione, escalation di furti in abitazioni, esercizi commerciali, oltre a decine di autovetture rubate, istituzioni forze dell'ordine, ma anche i cittadini di Campobasso fanno fronte comune contro i ladri. Aldo Di Giacomo interviene nel dibattito relativo all'escalation dei furti nella città di Campobasso. In ogni orario del giorno furti in abitazioni e in esercizi commerciali, oltre che di autovetture. La prefettura ha organizzato un tavolo tecnico, ma forse c'è bisogno anche di altri provvedimenti. Evidentemente noi sappiamo, siamo a conoscenza, che attraverso la prefettura c'è un coordinamento di tutte le forze dell'ordine, soprattutto in quelle zone in cui l'incidenza dei furti è più notevole e c'è da dire però che i furti sono quotidiani, o quantomeno i tentativi di furto sono quotidiani. Solo ieri sera, dalle 21 alle 22, ci sono state tre tentative di furto in una zona periferica di Campobasso. Allora noi come associazione ci fidiamo dalle forze dell'ordine per un motivo, perché abbiamo sentito la prefettura che ha fatto un tavolo tecnico su questo, che sta coordinando le forze dell'ordine, anche perché ci sono stati i primi segnali rassicuranti. Ci sono stati quattro fermi arresti di persone ritrovate con atti, con oggetti, atti a scassinare. Di Giacomo sottolinea che la denuncia a piedi libero delle persone fermate non è certo un deterrente per un malvivente. Una volta presi sono stati denunciati a piedi libero e figuriamoci se un delinquente si può spaventare dalla denuncia a piedi liberi. Di Giacomo preannuncia iniziative nel caso perdurassero questi episodi e viene a dare consigli pratici per fronteggiare il fenomeno, a cominciare dal furto d'auto. Quando riguarda il furto d'auto, noi abbiamo avuto furti d'auto dall'inizio all'alto di oltre 40 auto se non vado errato, ma la maggior parte di questa auto non si trova all'effrazione, non hanno rotto il vetro. Allora significa che hanno della strumentazione che captano il codice quando uno schiaccia il pulsantino della chiave. In questo periodo sarebbe opportuno utilizzare, inserire direttamente la chiave senza utilizzare il pulsantino. Per quanto riguarda i furti d'appartamento, quando suonano l'allarme la tendenza è quella a staccarli immediatamente. Questo non va assolutamente fatto, l'allarme lo lasciamo suonare fino a quando non siamo certi o che si tratta di un falso allarme o che non sono state avvisate le forze all'ordine e soprattutto la cosa da evitare assolutamente è di mettersi a fare degli errori, rincorrendo come è successo in molti casi il delinquente che è entrato dentro il caso. Saldi invernali, i commercianti chiedono di posticiparli, vediamo perché. Caldo fuori stagione, una problematica che non preoccupa solo agricoltori e ambientalisti ma che a Isernia sta impensierendo anche i commercianti. Le elevate temperature di settembre e ottobre infatti hanno frenato gli acquisti e i capi d'abbigliamento e le calzature della collezione autunno-inverno sono rimasti per lo più invenduti sugli scaffali. Proprio per questo motivo, come già avvenuto anche in altre realtà, Gli esercenti isernini chiedono che venga posticipata la data di partenza dei tradizionali saldi invernali, generalmente fissata per l'inizio del mese di gennaio. Un modo per prolungare il periodo di vendita a prezzo pieno e consentire ai commercianti di recuperare in qualche modo gli incassi perduti. Una questione di cui è stata interessata la consigliera comunale del gruppo misto Filomena Calenda. Sono stata contattata dai commercianti ovviamente di Isernia ma credo che la problematica riguardi un attimo tutto il Molise, tutta la regione, in quanto abbiamo visto che è stata una stagione anomala e quindi ovviamente pensare di andare con i saldi appena dopo il 7 gennaio credo che sia una cosa che non conviene ai commercianti. Una proposta che, sottolinea l'esponente di minoranza, ha già raccolto segnali d'apertura da parte degli organismi regionali ai quali la consigliera ha sottoposto il caso. Ovviamente si sta lavorando, io ho anche contattato l'assessore dilucente che mi ha dato massima attenzione e soprattutto sta verificando come ci si possa muovere. Quindi penso che a questo punto i saldi debbano essere posticipati perché insomma altrimenti davvero si cade ancora più in crisi della crisi attuale che è esistente. Due vitelli sbranati dai lupi tra le montagne sopra Pozzilli, lo sconforto di Angelo, l'allevatore. In pochi anni ho perso decine di animali e sono ancora in attesa dei rimborsi. Tra alberi, terra e sassi della montagna tra Pozzilli e Filignano, quel che resta di due vitelli. Questa notte, sbranati dai lupi. La testa e brandelli di carne ancora attaccati alle costole, gli unici macabri resti. Eppure, ci dice Angelo, l'allevatore che ci ha portato fin qui, in località Fossa, attraverso un tortuoso sentiero tra i boschi, quei giovani animali pesavano oltre un quintale l'uno. Questa è Palombella, la madre di uno dei vitelli dilaniati. Pascola apparentemente placida dietro uno steccato. Poco più su, l'odore pungente delle carcasse in putrefazione. Angelo ci spiega come sono andate le cose. E' abbrancato qua, il sangue là. Poi loro che li hanno portato là, li hanno fatto fare un giro là. Poi la povera madre, c'è due le hanno appoggiato pure vicino alla pianta, due le hanno accantonate. Vicino alla pianta, due le hanno accantonate. Perché davvero una morte richiesta, la povera madre richiesta. Quindi hanno fatto una morte lenta. Una morte lenta, perché loro mangiano e poco alla volta muore. Angelo ha 65 anni, conosce palmo a palmo questa montagna, tanto che sarebbe capace di districarsi tra la fitta vegetazione anche ad occhi chiusi. Fa l'allevatore da quando era bambino, ama i suoi animali e non ce la fa a perderli in questo modo. E poi c'è anche un altro aspetto, più materiale, economico. L'incursione dei lupi della scorsa notte gli è costata circa 2000 euro. E non è certo la prima volta che succede. Stamattina è venuto il veterinario, ho firmato la richiesta di rimborso, ma non so se verrò risarcito. L'ultimo rimborso della regione l'ho visto nel 2010, ci dice sconsolato. Continuerai a fare questo lavoro? Trenni elettrici in Molise non ci sono, ma in realtà sono già in ritardo. Vediamo perché. Elettrificazione della tratta ferroviaria Campobasso-Isernia slitta ancora alla fine dei lavori, prevista per dicembre 2024. I lavori dovevano essere ultimati nell'estate 2022, poi un primo rinvio a dicembre di quest'anno. Ora da RFI fanno sapere che l'elettrificazione della tratta ferroviaria Isernia-Campobasso non sarà ultimata prima di altri 13 mesi. Si dovrà attendere dicembre 2024 per vedere il primo treno elettrificato, partire dal capoluogo di regione, fare sosta Isernia per proseguire dritto fino alla capitale. Lavori che procedono a rilento e che creano non pochi disagi ai tanti pendolari che sono costretti a spostarsi per motivi di studio di lavoro. Il viaggio quotidiano inizia con un pullman sostitutivo da Campobasso, poi un altro mezzo a quattro ruote li attende davanti allo scalo ferroviario di Isernia per portarli fino alla stazione di Roccaravindola. Da qui finalmente si sale sui vagoni che impiegano circa due ore per raggiungere Roma, stessi problemi per chi viaggia in direzione Napoli. Una volta in carrozza poi altri disservizi noti con ritardi, mancate coincidenze e vagoni stracolmi, soprattutto in occasione del rientro in Molise per le festività. Se la riapertura della tratta Campobasso-Isernia dunque slitterà di un altro anno, nei prossimi mesi, forse già alla fine del 2023, saranno definitivamente completati i lavori di elettrificazione dell'Isernia Roccaravindola. Lavori che solo per farsi un'idea dovevano concludersi nell'ottobre del 2021, cioè due anni fa. In attesa dell'elettrificazione dell'intera rete ferroviaria regionale, c'è un altro aspetto non secondario che bisogna considerare. Al momento la regione Molise non possiede treni elettrici. L'assessore trasporti, Quintino Pallante, ha annunciato che nel bilancio sono stati inseriti 70 milioni di fondi europei. Per l'acquisto di otto nuovi vagoni, sarà Trenitalia ad acquistarli per conto della regione, ma solo dopo il completamento definitivo dei lavori. Barriere architettoniche a Palazzo Cimorelli, notte del Partito Democratico, il locale segretario invita il prefetto ad andare a verificare le condizioni di accessibilità dell'aula consigliare di Venafro. Venafro, siamo davanti a Palazzo Cimorelli, lo storico stabile e sede di alcuni uffici comunali e soprattutto dell'aula consigliare. Eccola in tutta la sua sobria ed elegante bellezza che resiste alle insidie del tempo. Ma c'è un ma. L'unico modo per accedervi, queste scale. Per chi come noi, ad usare un benevolo doppio eufemismo, non più giovincello e non in perfetta forma fisica, salire le quattro rampe non è una passeggiata. Addirittura impossibile per i portatori di handicap, visto che non ci sono ascensori. Dalla minoranza la questione delle barriere architettoniche dell'aula è stata portata in consiglio. Il sindaco Alfredo Ricci ha dato la disponibilità a valutare il cambiamento di sede. Intanto, ancora dai banchi della minoranza, il gruppo Vivere Venafro sta lavorando ad una mozione ad hoc. E per tenere alta la guardia sulla questione, il segretario del locale circolo PD, Giuseppe Notte, annuncia un'ulteriore iniziativa. Io inviterei il prefetto a venire al prossimo consiglio comunale per verificare se ci sono le condizioni di accessibilità per tutti. Poi, soluzioni ce ne sono. Proprio nell'immediato si potrebbe trasferire l'aula consigliare qui al piano terra di Palazzo Armieri, oppure al primo piano, accessibile tramite ascensore. È soltanto una questione di buona volontà. Dalla Sicilia a piedi la risalita dello stivale sulle orme di Garibaldi e dei suoi mille. Il lungo cammino di Stefano si è concluso nei giorni scorsi. Noi l'abbiamo incontrato. Il camminatore che vedete avvicinarsi alle mie spalle con tanto di bastoni da trekking sta viaggiando da molto tempo perché è partito da lontano, dalla Sicilia. Lui è Stefano Cascavilla. Il ponte reale su cui ha appena transitato gli consente un doppio passaggio oltre a quello sul fiume Volturno un altro, metaforico, tra le pieghe della storia che va dai Borbone quel ponte fu fatto costruire da Carlo III attraverso il risorgimento fino all'unità d'Italia. Il suo viaggio a piedi è iniziato nel 2021 da Marsala a Palermo. Di quella esperienza ne fece un libro dal titolo Essere Mille sulle orme di Garibaldi e dei suoi Mille fino alla stretta di mano con l'allora re d'Italia Vittorio Emanuele II un'impresa del genere non poteva certo essere lasciata incompiuta per questo il 58enne romano architetto, amante dei luoghi e della storia che li permea si è rimesso in marcia. La storia di Garibaldi che mi ha catturato è stata lei che ha catturato me perché è una storia così importante per tutti che guardando la mappa della Sicilia non ho potuto che pensare a questo. In sé per sé il cammino non è particolarmente pericoloso ogni tanto qualche cane randaggio sì, quello può essere pericoloso le persone invece sono sempre eccezionali sempre. Le strade invece come sono? Le strade sono così così ogni tanto sono delle meravigliose strade di campagna ogni tanto delle stradine dove ci sei solo tu ogni tanto delle stradacce, un sacco di camion ma quelle bisogna cercare di evitarle a proposito lo storico incontro tra l'eroe dei due mondi e il re a suggello dell'unità d'Italia secondo una sempre più accreditata storiografia evidentemente assecondata da Cascavilla avvenne nel Molise esattamente al Molino Le Pentime di Sesto Campano il 25 ottobre del 1860 a Teano i due si ritrovarono solo il giorno dopo proprio al Molino ormai abbandonato stamane Cascavilla ha concluso la sua lunga camminata e d'altra parte chi più di lui può affermare che la storia è un viaggio una camminata quella di Stefano senz'altro straordinaria non c'è che dire intanto noi ci fermiamo per dare uno sguardo alle previsioni meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV in Molise vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi domenica 19 novembre per la giornata odierna è previsto sole su tutto il territorio con temperature e rialzo specie nei valori massimi venti dai quadranti nord-occidentali rotazioni occidentali mare molto mosso fino a poco mosso dalla sera temperature Campobasso minima 4 massima 12 Isernia minima 3 massima 13 Termoli minima 11 massima 17 Venafro minima 5 massima 14 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani lunedì 20 novembre la settimana si aprirà all'insegna di tempo stabile con annuvolamenti transitori sparsi su tutto il territorio dal pomeriggio la situazione dovrebbe volgere ad un graduale peggioramento preludio di una fase perturbata prevista a partire da mercoledì sono da segnalare specialmente in serata deboli piogge sui settori occidentali ed un aumento generale della copertura nuvolosa venti in rotazione a sud occidentali mare poco mosso temperature Campobasso minima 4 massima 14 Sernia minima 6 massima 13 Termoli minima 11 massima 17 Venafro minima 6 massima 14 e il meteo come sempre chiude il Tg Replay l'appuntamento è a domenica prossima vi aspetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti